Ancora una bella iniziativa dello Sciclub a Concesio che organizza per martedì 12 aprile con inizio alle ore 20 e 30 una serata dedicata a David Salvadori, allenatore delle squadre maschili e femminili di sci alpino, con le quali ha partecipato alle Olimpiadi del 2018 e del 2022. L'incontro si terrà a Concesio nella Sala Alberina in Via Mattei numero 97. L'istruttore Valdrumplino è appena riduce dell'esperienza ai giochi olimpici di Pechino, durante i quali ha guidato la squadra femminile di Islano Speciale, partita con l'obiettivo di collezionare un'esperienza importante in attesa di una crescita generale, visto che le ragazze sono molto giovani. Salvadori ha messo in somma le basi per quelle che saranno le Olimpiadi di Cortina del 2026. Nel frattempo però ha annunciato che per motivi personali abbandonerà la nazionale, dopo una decina d'anni di proficua attività. Possibile che proprio durante l'incontro di Concesio sveli i suoi progetti futuri, magari da svolgere insieme alla compagna ed ex campionessa Nadia Fanchini.